Questa manifestazione di oggi è stato un segno, anzi faccio i complimenti miei vivissimi e questo non vorrebbe essere una sviolinata al sindaco perché ho trovato nelle sue parole una parte umana e di istinto vero, non giusto le frasi preconfezionate che si usano in occasioni tali. C'è un mare che ci divide, ci sono sempre stati due popoli e questa amicizia tra l'Albania e l'Italia, soprattutto dell'Italia e del sud, sarà sempre più forte negli anni e spero per tantissimo tempo, spero per sempre, ovvio.